Hermes Studi d'Arte Associati è lieta di presentare Una città, l'investitura, un castello medievale, nepi, anno del Signore 1499 per uno spettacolo indimenticabile era finalmente giunto dopo una trepidante attesa il solenne giorno dell'investitura con la speciale partecipazione degli insegnanti del progetto random e con gli studenti del coro di Random Intercultura in tutta la Rocca Borgia fervevano i preparativi per la cerimonia tutto il castello era un andirivieni di genti affaccendate per la solenne investitura del rosso e rivestito, del rosso e rivestito, del contemplazione il sangue il tuo vessato, il sangue che hai vessato di così gran valore oh quanto rientri onore alla città dei nevi alla città dei nevi bene costa l'armatura dei fili i diritti e l'onore del priorato i diritti e l'onore del priorato le costa le costa l'armatura l'armatura oltre a quei amici che sono chiusi o la benvenzione di Dio e che dai tutti i fomentatori di dissidio e sei spiriti timore, morto e spavento la consegna degli speroni della spada a doppio taglio e la palmata sulla nuca avrebbero sancito da quel momento e per sempre la nascita di un nuovo cavalier giuro! giuro!